Sono Rim Saidi, sono a Tunisia, vivo l'Italia da più di 9 anni, sono qua per il charity, sono l'ospite di Bobo, quando mi hanno invitato ho detto sicuramente che vengo, sono molto felice di essere qui perché è un charity per il bene dell'Italia. Sono qua per il charity anche perché in Tunisia ho un'associazione che aiuta i bambini e sono sempre presente da quando mi invitano per una charity sono sempre qua presente. Abito a Milano da più di 9 anni, facevo la modella e adesso sto studiando l'acting qua a Milano e anche a Los Angeles e New York. Sono già stata a Milano Marittima, mi piace tantissimo, l'Italia mi piace tantissimo per quello che ho scelto l'Italia per vivere. Ho fatto 6 anni di nuoto in Tunisia, da piccola, faccio sempre the charity, quasi tutti i giorni, in palestra e anche quando c'è un'attività come questa, beh, la faccio con piacere. Ogni tanto vado a San Siro per guardare il calcio, solo per guardarlo perché gli italiani piace il calcio e vado sempre con gli amici a San Siro. Ciao ragazzi! 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 Grazie.